Si allarga a macchia d'olio il caso degli elettrodomestici e degli impianti danneggiati ieri mattina sotto Marina, tra Santo Spirito e Viale Tirreno, dal sovraccarico di corrente elettrica dopo i lavori annunciati da E-Distribuzione. Non più solo casi sporadici, ma un bollettino di guerra che si estende anche alla vicina strada Madonna Marina, dove è stato avvertito un forte boato ieri prima delle ore 10. C'è chi ha rimediato 2000 euro di danni, tra gli oggetti colpiti i climatizzatori, lettori DVD, caricabatterie, macchine del caffè, condizionatori, frigoriferi, antenne, forni a microonde ma soprattutto le caldaie. Praticamente è entrata la corrente da 380 volt in casa, commenta un utente, mentre c'è chi ricorda che un caso analogo è successo 3 o 4 anni fa. Anche allora fu tutto da buttare e riacquistare, prima del risarcimento. A tal proposito, la società E-Distribuzione conferma lo sbalzo di tensione al termine di alcuni lavori programmati nella cabina Orti 1 in comune di Chiorgia. Il personale operativo è intervenuto immediatamente risolvendo tempestivamente il problema e rialimentando la clientela. È distribuzione formalmente dispiaciuta per i danni subiti da alcuni utenti e ricorda che per eventuali richieste di risarcimento danni è possibile legare la documentazione necessaria e inviare un fax al numero verde 800 046 674 oppure una missiva alla casella postale 5555 di potenza. Infine via mail all'indirizzo E-Distribuzione www.chiorgia.pec.e-distribuzione.it Beh diciamo che non è il miglior modo per iniziare la giornata. Comunque questa mattina un po' prima delle 7 c'è stato un allarme incendio a Brundole in zona Papa Giovanni XXIII. Praticamente una palazzina, c'è stato un incendio dentro una palazzina, una residenza abituata da alcuni ospiti migranti di Brundole. Sono intervenuti velocemente sia l'ambulanza perché si temeva che ci fosse qualche ferito, fortunatamente non c'è né ferito né qualcosa di più grave. Sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia di Stato, i vigili di fuoco ovviamente che sono tuttora, a questo momento sono alle 8, sono ancora all'azione lì per delimitare i danni. Da quel che sappiamo ci sono almeno due stanze totalmente distrutte in pratica, quindi la cosa poteva avere a dei suoi volti ben più gravi e non si conoscono al momento, almeno ovviamente eravamo lì questa mattina presto e quindi ci sono proprio le forze dell'ordine, in particolare la Polizia di Stato che è incaricata di capire cosa è successo o meno. Quindi ulteriori aggiornamenti li daremo in giornata, nel primo pomeriggio capiremo meglio come è successo questo incendio che comunque ricordiamo fortunatamente non ha fatto nessun tipo di vittima oppure insomma feriti. Per il momento è tutto. Grandi novità nell'arredo urbano dell'Arenire di Sottomarina. Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori all'esterno dei bagni Clodia in corrispondenza del parcheggio Sud per la costruzione di un nuovo supermercato che sarà gestito dalla catena tedesca Aldi. Lo stabile coprirà 1200 metri quadrati per un investimento di oltre 3 milioni. Aldi è un marchio già molto noto a livello mondiale nel comparto della grande distribuzione organizzata e si sta diffondendo anche in Italia attraverso una particolare politica dei prezzi. La struttura è stata progettata con un design avveniristico ma soprattutto con soluzioni innovative e moderne dal punto di vista energetico. L'esercizio naturalmente creerà nuovi posti di lavoro mentre i bagni Clodia puntano così ad allargare l'offerta a disposizione dei propri clienti e della cittadinanza realizzando una nuova area commerciale che si unisce a tutti gli altri comodi servizi praticamente nel centro di Sottomarina. Si avvicinano le celebrazioni della giornata della memoria e domani mattina venerdì 24 le scuole primarie e secondarie di primo grado rispettivamente alle ore 8 e 30 e 11 e 30 saranno spettatrici all'auditorium San Nicolo in Chioggia della pièce teatrale Oltre il diluvio portata in scena dalla compagnia Pipa e Pece. La regia dello spettacolo è di Titino Carrara sul palco Giorgio Antonelli, Roberto Tombesi e Francesco Ganassin che suoneranno musiche proprie dai riflessi popolareschi. La trama. In Belgio nel 1942, durante l'occupazione nazista, il piccolo ebreo Joseph di 7 anni viene affidato al sacerdote cattolico padre Pons che in una sorta di collegio accoglie sotto falso nome molti ragazzi ebrei per sottrargli allo sterminio. Nel collegio di Villa Gialla Joseph vive l'amicizia con Rudy, grande e grosso, capelli rossi e poca voglia di studiare. Scopre un aiuto prezioso nella burbera signorina Marcel, farmacista Mangiapretti, soprannominata per Dio in tutto il paese e trova rifugio e conforto negli insegnamenti di padre Pons. E allora, siamo qui al laboratorio San Giovanni che c'è in via Mediterraneo. Vi ricordo che gli esami si possono fare tutte le mattine, tra il sabato e il domenica, dalle 7 e mezza fino alle 9 e poi, prego per votini pure, e poi anche praticamente si possono ritirare dalle 9 della mattina fino a mezzogiorno e al pomeriggio dalle 15 fino alle 19. L'aspetto molto importante è che gli esami si possono ritirare anche tramite online, quindi non occorre venire qui qua, se chi vuole che ha bisogno viene ovviamente ci sono le signorine, ma si possono ritirare tranquillamente tramite posta elettronica e quindi è molto molto comodo e quindi vi consiglio di utilizzare questi servizi che sono tra l'altro a un prezzo molto vantaggioso. Grazie.